La situazione economica in cui versa il Comune di Brindisi è abbastanza critica e gestirla non è affatto facile. Così come non è facile far quadrare i conti. Le risorse sono poche e bisogna rispondere alle esigenze del territorio, e sono tante. Ecco perché l'assessore al bilancio, Livia Antonucci, ha presentato in extremis l'ordine del giorno riguardante la variazione di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2023. Si rende necessario quasi sempre dover assestare il bilancio per fatti e accadimenti che naturalmente nel corso dell'amministrazione e dell'attività amministrativa si possono presentare. E' questo il caso. Noi abbiamo però la certezza di avere un bilancio in perfetto equilibrio economico-finanziario, e questo naturalmente è il dato più importante. E poi abbiamo delle variazioni che riguardano per esempio dei fondi FESR e FSE che stanno arrivando per poco più di 8 milioni di euro, che riguardano tante attività che spaziano dal turismo all'ampliamento e alla riqualificazione delle case di quartiere, e insomma e tanto altro, anche il welfare in generale. Quindi poi abbiamo per esempio 900 mila euro di fondi FESR che verranno poi destinati alla piantumazione, piuttosto che insomma al decoro urbano. Al redo urbano. Sì, al redo urbano. E quindi insomma questa manovra vale più di 13 milioni di euro.